Roma Futura è un'esperienza fatta da reti civiche, movimenti che stanno sul territorio, quindi non è fatta da partiti in senso tradizionale, che hanno invece trovato un modo di mettersi insieme in un'altra lista, rispettabile, scelta assolutamente rispettabile, è fatta dal movimento pop, è fatta dalle persone che stanno intorno a me, che hanno governato in questi anni il terzo municipio, è fatta dal partito pan-europeo Bolt, dai ragazzi di Possibile Roma, i radicali aderiscono alla lista e anche Green Italia, che è il movimento nato attorno alle questioni di carattere ecologico, con la portavoce Annalisa Corrado che fa parte della lista, abbiamo anche la presenza di Rossella Muroni che farà parte del nostro gruppo. Noi ci teniamo una cosa, che le cose che mettiamo nella lista, le parole che abbiamo messo nella lista, hanno facce e corpi di persone che si occupano da anni di quelle cose, cioè le parole corrispondono con i corpi e con le cose che noi facciamo solitamente e che abbiamo fatto anche nella nostra vita. La continuità amministrativa è uno dei principi fondamentali che gli interlocutori, soprattutto i privati, cercano nel momento in cui investono in una città, nelle altre città, pensiamo a Milano, di cui certe volte ci si rivolge in termini positivi, al di là adesso dei giudizi che ognuno di noi può avere su quello che sta succedendo a Milano, ma le cose che stiamo vedendo oggi le ha decise la Moratti, le ha portate avanti Albertini, le ha proseguite Pisapia e le sta facendo Sala. A Roma tutto questo è assurdo. Io ricordo che da assessore, avendo scritto prima che si facesse il piano regolatore generale tutte le critiche al modo in cui il piano regolatore generale si stava facendo, un minuto dopo che quel piano è diventato legge non ho più scritto nulla contro quel piano se non cambiarlo. Quando sono stato assessore ho proseguito e ho attuato il piano regolatore e fatto delle modifiche per poterlo migliorare. Penso che questo è l'elemento con cui si amministra. A me fa molta specie veramente che molte cose che ho lasciato sul tavolo della passata di questa amministrazione, noi abbiamo solo governato due anni e quattro mesi, tutte le cose che abbiamo lasciato sul tavolo se li sono prolungati in questi cinque anni, in alcuni casi senza esito, in alcuni casi come nel caso dello stadio facendolo diventare prima una cosa falsa perché si diceva non allo stadio ma si mandavano i progetti in regione, poi si è fatto un accordo assolutamente inconcludente, l'esito è ancora peggio e io vedo quale investitore privato dovrebbe a Roma investire dopo l'operazione, il modo in cui è stato trattato lo stadio.